e buonasera buonasera a bella gente benvenuti in una nuova puntata zeload con crash bandicoat allora ragazzi un aggiornamento veloce per chi sta in live stasera abbiamo la nostra stefi che stasera sta portando gta online poi abbiamo il nostro emu che passione che porta sempre retro games la nostra carim che stasera si è dedicata a una live speciale con just dance e con la prova costumi il nostro grit hot con casual light la nostra bella cut con death light con death light ilo su twitch con patto exhale il nostro easy che gioca nel mondo dei gatti il nostro ie ie che continua la maratona delle otto ore fiorez che sta chiacchierando mentre guarda la partita il nostro chile d'ora in continuo sta continuando a giocare ad atlas il gruppo msi il mio master raffo games con dark soul il gruppo element game che stasera portano un po di retro games la nostra sarà conno che gioca payday e il nostro credo che stasera portano un po di retro games la nostra carina che stasera portano ok 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 No, ancora no. Mi pare... Deve pare che fosse qua. No, certo non era qua. No, ancora no. 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 Ok. 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 eccoci qua aspetta ho dimenticato una cassa dove l'ho dimenticata facciamo i seri non c'è una nota a capo scotto sempre oh eccoci qua lo recuperate il primo eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua mamma mia ok stasera screderò proprio bello eh faccio troppe cosi fritte eccoci qua 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 E adesso andiamo dal nostro caro professore. Oh! Oh! Con calma. Ok, maggi. Ok, maggi. Ok, maggi. E abbiamo ottenuto anche la gemma. Ok, maggi. 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 Grazie a tutti Ah beh Mi sono fatto volentieri il bagno Grazie a tutti 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 Oh no Grazie a tutti 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 Dove mi sono Grazie a tutti 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 Grazie a tutti